Siamo all'ultima partita di training camp, abbiamo la vittoria di Buondonno 6 a 0 contro Riffice. Iniziamo con la squadra vincitrice, presentatevi. Sambolo Christian, Fabiano Buondonno di Guida Giuseppe. Mentre dall'altro lato abbiamo... Gian Paolo De Marino, Enrico Colin, Filippo Basito, Fabrizio Musso, Luca Fiotentino, Francesco Polese e Gian Maria Della Versano. Allora, Ciano, a chi dedichi tutti i due gol? Ciano non c'è, però voglio dire solo una cosa. Corrado, scusami, venire qua, lo facciamo in diretta televisiva? Grazie, voglio. Grazie per averci fatto via. Va bene. Sambolo, invece tu a chi dedichi il gol? A chi dedichi questo gol? Allora, l'amore della mia vita, la mia ragazza. E cosa pensi di questa partita? Abbiamo giocato finalmente bene, dobbiamo ancora migliorare per il torneo. Adesso c'è una vista toppa serie, però c'è una vista toppa serie, però c'è un'idevissima l'ora. Allora, abbiamo Sabarese. A chi dedichi il gol? E cosa pensi di questa partita? Allora, penso che è stata una partita bellissima. E io dedico il mio gol alla mia ragazza, Gian Maria. A chi? A chi mi chiede la tua ragazza? Fiorillo? Io. Fiorentino. Che ne ha saputo le cose. Io ho la migliore amica di mia nonna, dedico il gol. Cosa pensi di questa partita? Non lo so, dice qualcosa. Perché noi siamo momentaneamente nel fior miur. E questo è tutto? No, questo è tutto. Ma io non ho detto comunque che è la mia ragazza. Dici, chi è la tua ragazza? Il dono. Amore, ti ha dato il gol con me. Grazie, amore. Sono contentissimo che ho sognato. Davvero sono bellissima. Voglio dedicare pure il mio non-goal. Lo dedico a tutti quanti perché è stato un non-goal stupendo. È la mia occasione che è davanti al portiere ho sbagliato. Lo voglio dedicare a Cristiano perché ho pensato a lui e mi sono emozionato. E questo è. Un saluto e un bacio alla Maverick. Salutate. Dedico il gol al mio cugino che andrà piano, faccio il meravigliare l'oppo mezzo. Questo è tutto. Salutate. Ciao, Maverick. Ciao, Maverick.